Ben ritrovati dall'Ipodromodelle Mediterraneo di Siracusa, andiamo ad analizzare le sei corse in programma per domenica 17, la terza corsa è il premio Cozumel ed è sicuramente il centrale. Handicap discendente sui 1400 metri di pista piccola che chiama a concorrere i tre anni e oltre, sono ben sei soggetti al via. C'è una Geraldine che nei mesi scorsi sicuramente non è mai scesa dal podio qui a Siracusa, vince anche l'ultima condizionata su distanza simile con 55,5 kg, però adesso presenta 63 kg e benché abbia scritto anche un secondo posto in handicap principale, quindi una bella categoria affrontata, sicuramente ha un arduo compito. Attenzione poi alla bella forma del numero 3 Alp Duets che sicuramente ha fatto un rientro brillante. Noi ci affidiamo con i pronostici al nostro segretario Corso, Vincenzo Schiavone. È una tre anni che si confronta con gli anziani, il compito è piuttosto severo anche perché è costretto a portare il top weight. La forma recente indica secondo me Alp Duets come cavallo base, Peppe Island è un cavallo ben situato al peso e può correre da protagonista. One Duke ha corso bene al rientro, è un cavallo che con il pesino potrebbe lottare la prova. Leo Salsi ma anche lui ha il rientro come Comet Gray, due cavalli monocorde, due cavalli che cercheranno subito di assumere l'iniziativa e fare selezione. Io mi affiderei alla forma di Alp Duets e alla situazione di Peppe Island, la situazione ponderale di Peppe Island, che mi sembra bene in corsa, quindi proviamo con Alp Duets e Peppe Island. Partiamo con la prima corsa, si apriranno le gabbie alle 15.45, l'ippodromo del Mediterraneo domenica 17, premio Miami, un handicap discendente sui 1300 metri in pista sabbia, riservata ai due anni. Pochi ma complicati da decifrare in questo pronostico, è un handicap sicuramente il primo, è un handicap che chiama i due anni al confronto, dice lo stesso Vincenzo Schiavone, ci proviamo a affidare al numero uno dello schieramento che è esperta in sabbia, l'alternativa va a Beers peraltro in linea con il numero uno, la mina vagante potrebbe essere Dolce e Brigitte numero tre dello schieramento e ancora il numero quattro Magica Grazia invece la sorpresa. La seconda corsa, eccovi la schermata, una reclamare sui 1100 metri in pista piccola che come vedete chiama sei soggetti di tre anni oltre a concorrere per il premio Oceo Rios. Sono il numero uno a Chilendra che ha buoni mezzi, Alcairina per forma più recente e ancora il numero quattro di Isilacot alla prima Siracusa, i nomi espressi dal nostro segretario corse proprio in considerazione anche del difficile pronostico da effettuare su questa seconda di Siracusa. Andiamo alla quarta invece, un handicap discendente, la quarta e la quinta corsa del convegno di domenica sono legati all'ipica nazionale, il premio Roaten si cambia la pista, si va in sabbia, 1900 metri da affrontare per i tre anni e oltre. Sono nove soggetti alla via e anche qui il pronostico è quello di Vincenzo Schiavone. Ma Albeia ha dei buoni riferimenti, è terzo incondizionata sulla sabbia, sulla stessa distanza. Jack Vilgò ha corso bene di recente vincendo, un handicap sebbene meno qualitativo. Vedo bene in corsa Coldream numero 7, un altro cavallo che con questo peso potrebbe esprimere tutti i suoi buoni mezzi. E poi attenzione a Stam e Forex che mi sembrano della partita, quindi proverei con Albeia, Forex, Stam, Queen Peppe, un'altra che potrebbe lottare per una piazza. E poi Jack Vilgò e Coldream in una prova che rimane secondo me abbastanza aperta. Un bel handicap. Analisi complicata anche per la quinta corsa, il premio Nassau, handicap discendente, 1700 metri in pista grande per i tre anni e oltre. Anche a questa corsa legata all'Ippica nazionale, i nomi ce li svela Vincenzo. Sebbene sia un handicap di minima, è una prova ben riuscita questo premio Nassau. Ma i mistress torna a confrontarsi sul trecciato in erba, l'ultima è veramente deludente, l'ultima prestazione. Potrebbe riscattare appunto, potrebbe ribaltare quella performance. L'Oveli Aert con questo peso in una categoria del genere ha delle ottime chance come Black Future che ho visto bene la scorsa settimana. Un cavallo d'utile che si adatta anche al trecciato in erba. Duke of Rumba, quarto rientro, la scorsa settimana può essere della partita. Poi la grossa sorpresa potrebbe arrivare da Crazy Night numero 12, ha corso bene nella riunione estiva, porta 53,5 kg, piuttosto scarica. Proviamo con Crazy Night come sorpresa. Il cavallo base potrebbe essere Black Future numero 8. La sesta corsa invece è un handicap discendente, 1700 metri in pista grande da affrontare per il premio K-West. Sono i tre anni al confronto e qui Embrou Amoua è rientrata veramente bene, è messa bene in perizia, 58 kg. In linea con Grey Dancing che scende di categoria così come Kill Lucky Black e Capitan Glow che invece sono i più pesanti. E attenzione anche a qualche rientro che ha fatto già mettere forse condizione a qualche cavallino, ce li suggerisce il nostro segretario Corse. E Bull Amoua ha bene rientro la scorsa settimana con gli anziani, quindi potrebbe essere lui il cavallo base. Grey Dancing è un altro che può essere della partita, come Alde Basta ha bene rientro. Master Cup è un altro che ha chance. Kill Lucky Black è un altro soggetto di ottimi mezzi che potrebbe inserirsi. Anche Nomadelfia che prova l'erba potrebbe, ha corso ultimamente spesso sul tracciato in sabbia, Nomadelfia anche lei può essere illizza per il podio. Proviamo con Grey Dancing, Master Cup e Bull Amoua. E dall'Ippodromo del Mediterraneo è tutto. L'appuntamento con l'Ippica Siracusana è domenica pomeriggio giorno 17 alle ore 15.45. Arrivederci.